vi siete mai chiesti se le stinchiere che usate con i vostri cavalli lo proteggono per davvero? noi di equic si! ci siamo rivolti così ad una dita specializzata e certificata per vedere quanto la nostra tecnologia e fluid gel sia migliore o meno rispetto alle altre stinchiere presenti sul mercato abbiamo diviso la zona d'impatto in tre parti ed abbiamo fatto lo stesso con un'altra stinchiera i risultati sono incredibili le protezioni quick con tecnologia brevettata e fluid gel hanno attutito l'impatto ben quattro volte di più rispetto alle stinchiere tradizionali voglio farvi un esempio estremamente semplice poniamo che il vostro cavallo riceva un colpo sul tendine con delle stinchiere tradizionali l'assorbimento di tale colpo è del 20 per cento mentre con le stinchiere equic l'assorbimento raggiunge e supera l'ottanta per cento di sicuro non spetta a noi dirvi quanto proteggere il vostro cavallo ma la massima protezione ve la offre solo equic grazie a tutti